Ciao a tutti, oggi prepareremo i biscotti al limone. Il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora circa. Gli ingredienti sono farina di tipo 00, zucchero, uova, latte, lievito per dolci vanigliato, succo di limone, pasta di limone o la scorza di un limone, olio di semi di girasole e sale. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale lo zucchero e lo facciamo polverizzare per 10 secondi a velocità 10. Riunire sul fondo del boccale con la spadola. Aggiungere la farina, il latte, l'olio, le uova, il succo di limone, la pasta di limone, il lievito e il sale. Ed azionare il bimbi per 30 secondi a velocità 5. Formare un panetto, avvolgere nella pellicola trasparente e riporre in frigo per 30 minuti. Trascorso il tempo abbiamo ripreso la frolla dal frigo, adesso formare dei filoncini. tagliarli a tocchetti e passarli nello zucchero semolato. Posizionare su una teglia rivestita con carta da forno e proseguire così con tutto il resto della frolla. Cuocere in forno preriscaldato a 180 gradi per 20-25 minuti. I biscotti sono pronti, lasciare raffreddare completamente prima di rimuovere dalla teglia e servire. Biscotti al limone! Grazie e alla prossima ricetta! Grazie a tutti! Grazie a tutti!